Tanti saluti a tutti! Questa è la chiusura del 23 marzo 2021 dell'appartamento a piano di sotto, quello dei cristiani di Michele a Borgangolo. 23 marzo 2021 c'è scritto dopo che parte, sì, tutti i giorni la casa viene chiusa così dall'8 novembre 2020. Ormai sono molti mesi, tutti i giorni. Tanti saluti a tutti. Questo è il ferrarino, il mio nuovo quattro ruote. Ce l'ho dal 12 gennaio 2021. Con questo vado in autostrada. Faccio tutto questo qua. Tanti saluti a tutti. Guardate che bello il nuovo ferrarino. Piano Terra via 326.